Il campionato mondiale Master è una gara molto importante, saranno coinvolti oltre 500 atleti, altrettanti fra tecnici, familiari ed accompagnatori. La maggior parte di questi atleti arriveranno in aereo e quindi già qui ci sarà un primo contatto con la città di Firenze perché chiaramente atterreranno quasi tutti all'aeroporto fiorentino di Peretola e qualcuno ci ha già chiesto a livello di comitato organizzatore di poter rimanere qualche giorno anche in città a Firenze per cogliere l'occasione anche di fare un po' di turismo.